Trauma chiuso toraco addominale con emorragia interna e morto pochi minuti dopo l'incidente Dominic Dell'Elce, 22 anni di Lanciano e senza riprendere conoscenza. A stabilirlo è stata l'autopsia eseguita dall'anatomo patologo Domenico Angelucci alla presenza del medico di parte della famiglia del giovane, il Dopolidoro. Dall'esame autoptico è emerso anche che Dominic indossava la cintura di sicurezza ma non è bastato per salvargli la vita. Troppo violento l'impatto tra le due autovetture avvenuto poco prima del luna di notte in località accesa San Vito Chietino. Dominic si recava dagli amici alla marina di San Vito quando in una semicurva della statale frentana deve aver perso il controllo del mezzo. I rilievi dei carabinieri di Ortona che hanno ricostruito la dinamica segnano sull'asfalto la traiettoria della Fiat Grande Punto del giovane che ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con la lancia Y di una 44enne di Lanciano al rientro dal lavoro. Dopo l'autopsia la salma del giovane è stata restituita alla famiglia Villa Elce dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 4 nella chiesa parrocchiale Madonna del Pozzo.